No, mi dicono ma cosa fai? Stai attento, stai calmo, ti prendi le querele, ti fanno i dispetti, ti fanno tutte le cose. Oh, come dice il maestro Funakoshi, c'è un momento per vivere e un momento per morire. Ci vorrà pure uno scopo di vita, almeno si vive per qualcosa, mica per nulla, e mi faranno le querele. Chi se ne importa. E comunque lui, lui è assolutamente d'accordo con me e mi difende anche.